Ieri luci accese di bar, ristoranti e stabilimenti balneari. Oggi la consegna delle chiavi dei locali al sindaco. A Pescara la protesta dei titolari dell'attività di ristorazione di Piazza Muzzi e dintorni non si ferma. La situazione è molto pesante e molti rischiano di non ripartire quando il 2 giugno, secondo decreto, sarà possibile riaprire il settore del food and beverage. La consegna simbolica è avvenuta sotto Palazzo di Città. Sentiamo Gianni Tauci, direttore Confesarcenti Pescara e il sindaco Carlo Masci. Che cosa chiedete al comune? Abbiamo già chiesto e continueremo a chiedere l'immediato blocco della tassazione locale. Consapevoli di tutto quello che accade con un blocco della tassazione locale, ma le imprese non possono sostenere questi costi. Richieste da avanzare alla regione? Alla regione stiamo chiedendo dei voucher a fondo perduto importanti che diano l'opportunità di far recuperare quei costi che oggi le imprese hanno approntato e hanno tolto dalle loro liquidità anche per una ripartenza abbastanza veloce con soldi che non dovranno restituire, perché altrimenti non avremmo possibilità di far riaprire le attività tutte. Per dare un'idea, quanti sono gli esercizi coinvolti a Pescara da questa emergenza? Sul commercio parliamo del 60% in generale a linea regionale delle attività chiuse sotto il punto di vista del commercio puro. Pescara penso anche molto di più perché è una città molto radicata sul commercio. Come ripartire? Perché non c'è ancora un protocollo ben preciso? Sì, attendiamo un protocollo di come sanificare e come sistemare gli ambienti, anche perché con quel riferimento di protocollo potremmo sapere anche quanti lavoratori potranno svolgere le loro attività all'interno dell'azienda, perché il problema sarà anche del numero di lavoratori che potranno accedere all'interno dell'azienda. Con questo chiederemo alla regione anche un ulteriore proroga e finanziamento di cassa integrazione. Il comune farà la sua parte ma farà in modo che anche le altre istituzioni si muovano perché qui occorre un intervento a fondo perduto per ridare fiato alle attività. Lo dico da tempo che purtroppo oggi sono in ginocchio. Azzeramento della Tari ma anche altre tasse comunali è possibile intervenire? Noi stiamo lavorando su queste iniziative. Certo occorrerà un intervento dello Stato importante anche per i comuni, perché i comuni ovviamente pagano le attività, anche quella della Tari, che è una tassa dei rifiuti solidi urbani con le risorse che arrivano dai cittadini. Dovremmo avere anche noi un intervento straordinario da parte dello Stato di cui si parla, speriamo che arrivi. E noi, lo ho già detto e lo ripeto, qualsiasi risorsa che avremo a disposizione libera la utilizzeremo per abbattere i costi per i commercianti e per i cittadini di Pescara che ovviamente devono avere la forza di reagire e di ripartire con l'aiuto del comune e di tutte le istituzioni.